il suo ritardo perché mio padre ripeteva sempre che io e mia madre gli avevamo tarpato le ali commento perché tuo padre aveva bisogno di accollare il suo ritardo evolutivo a qualcuno estraneo a se stesso non sapeva che quando ti aveva generato insieme a tua madre aveva ubbidito al bisogno che urgeva dentro di lui